Domenica 24 marzo, buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. Nella prima domenica di primavera a Varese è stato preso d'assalto il Luna Park della Schiranna. Il secondo giorno di apertura segna il pienone, oltre a lunghe file di auto. Sentiamo Adriana Morlachi, immagini dell'agenzia Blitz. La super affluenza del Luna Park è arrivata puntualmente al suo secondo giorno di apertura. Chi ha tentato nel pomeriggio di oggi di raggiungere il parco dei divertimenti ha dovuto immettersi in un bel po' di coda, un serpentone di macchine che ha bloccato gran parte della quale la rotonda o il biscotto in fila già dalla via Macchi, da Bobbiate verso la Schiranna. Insomma, un pomeriggio di super affluenza che si è rivelato particolarmente ostico all'interno dell'anello di via dei prati con macchine in coda che, come denunciano da anni i residenti, bloccano i cancelli e impediscono di fatto alla gente anche di uscire dalle proprie case. Buon riempimento dei parcheggi ricavati nei prati circostanti. Insomma, un pomeriggio all'insegna delle giostre, del divertimento per chi è riuscito ad arrivarci. Restiamo a Varese, aperto per una domenica di lavoro all'ex caserma Garibaldi, il cantiere. È stato tolto il telone che copriva la facciata e si vede lo stato di avanzamento del restauro. Il servizio. Non conoscono soste i lavori all'ex caserma Garibaldi. Questa mattina le operazioni sono cominciate alle 9. È stato tolto il maxitelo che ricopriva l'ex caserma Garibaldi nel lato che si affaccia su Piazza Repubblica. In realtà i teloni erano due affiancati, prima è stato tolto quello a destra, poi quello a sinistra, a ridosso di Via Magenta, che riportava lo slogan I città parlano i fatti. La facciata in questione è lunga 70 metri e alta 20 metri. L'ex caserma è al centro di un progetto di riqualificazione che prevede già quest'anno l'insediamento dell'archivio del moderno e aule studi. È prevista inoltre la pedonalizzazione di Via Spinelli, la strada che separa la Garibaldi da Piazza Repubblica. Spostiamoci ora a Comerio, dove questa mattina un uomo di 50 anni è stato colto da malore durante un'escursione a ridosso del sentiero 12 del parco del Campo dei Fiori. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese con la squadra Speleoalpino Fluviale, il soccorso alpino, l'ambulanza e l'elicottero del 118. L'uomo è stato trasportato con un fuoristrada all'elicottero che lo ha poi portato in ospedale d'urgenza. Questa mattina un nuovo raduno di auto d'epoca in Piazza Repubblica Varese. Sentiamo il presidente di Varese Auto e Moto Storiche, Angelo De Giorgi, intervistato da Giuseppe Macchi. Immagini dell'agenzia Blitz. È sempre un grande successo. Mettiamo a disposizione i commissari tecnici del nostro club in modo assolutamente gratuito per poter garantire la verifica e la certificazione dei veicoli e andiamo a testare la storicità dei veicoli storici. Sapete che dopo 20 anni i veicoli possono essere certificati. Noi siamo certificatori per conto di ASI e del Ministero dei Trasporti e questa certificazione consente di avere intanto l'esenzione al bollo totale grazie a Regione Lombardia ma soprattutto una serie di agevolazioni per intanto la circolazione perché sapete che la maggior parte di questi veicoli sono nero o zero per cui con il CRS è possibile circolare in deroga alle normative dell'antinquinamento. Ad Arona è stata annunciata la ristrutturazione della stazione ferroviaria. Ce ne parla Maurizio Roberto. Stazione di territorio tra le 15 in Italia che saranno trasformate c'è Arona, unica in Piemonte. L'annuncio lo ha dato Alberto Gusmaroli, parlamentare leghista della zona. Verranno ristrutturati, spiega Gusmaroli, tutti gli spazi ora in stato di abbandono. La stazione di Arona tornerà a vivere e diventerà quale pulsante della città. Aggiunge, con fondi a carico di RFI verranno recuperati gli spazi ora in disuso all'interno e attorno alla stazione ferroviaria. Nella parte dell'estopo lavoro ferroviario, posto da piazzare davanti alla stazione, verranno sistemati 600 metri quadri, ora abbandonati, gli spazi che saranno destinati all'associazione lonesi, così come tre appartamenti che si trovano all'interno dell'edificio nei piani alti, ora vuoti. La stazione così tornerà a vivere tutto il giorno, senza la necessità di presidi e pulizia, in quanto era percepita come luogo sicuro da vivere. Tra i progetti anche un campo di mine basket in un terreno di accente alla stazione vicino ai bagni pubblici, recentemente ristrutturati, che saranno aperti a Pasqua. Busto Arsizio prende l'Oscar dello Sport e celebra in Basilica la Pasqua dello Sportivo. Ce ne parla Francesco Inguscio, immagini dell'Agenzia Blitz. È stato assegnato alla città di Busto Arsizio il trofeo allo sport, il premio principale della Pasqua dell'atleta. La 56esima edizione della manifestazione, organizzata dall'Associazione delle Società Sportive Bustesi, ASSB, guidata dalla presidente Cinzia Ghisellini, è andata in scena sabato pomeriggio nella consueta suggestiva cornice della Basilica di San Giovanni. Al termine della messa celebrata dal prevosto Monsignor Severino Pagani. Ben 42 i premiati, suddivisi nelle varie categorie. L'onorificenza più attesa, il trofeo allo sport, è andata appunto alla città di Busto, meritevole di aver onorato con un intero anno di eventi il riconoscimento di Città Europea dello Sport 2023. Per la Pasqua dell'atleta la Basilica di San Giovanni era gremita. Sull'altare erano presenti gli atleti con le divise sociali e i lavari. Massiccia la rappresentanza dell'amministrazione comunale, a cominciare dalla sindaco Emanuele Antonelli e l'assessore allo sport Maurizio Artusa. Sono stati proprio loro a ritirare il trofeo allo sport. Ora i temi approfonditi sulla prealpina che troverete in edicola domani. Sentiamo le anticipazioni da Luca Nazari. Lo sapevate che Varese è la terza città della Lombardia per uso del carpooling dopo Milano e Brescia? La buona abitudine di trasporto che raggruppa le esigenze degli automobilisti lavoratori per spendere e inquinare di meno viene raccontata dall'inchiesta di Adriana Morlacchi, che scopre che Varese è la dodicesima città in Italia per il carpooling. Come tutti i lunedì, sono tante le pagine di sport sulla prealpina in edicola domani, con precedenza naturalmente al basket, visto che la pallacanestro Varese ha giocato contro Tortona. Poi c'è lo speciale sul calcio, con tutti i risultati delle nostre squadre. Molti altri approfondimenti sul giornale di domani, come quello sulla tassa di soggiorno a Gallarate, condotto da Elisa Ranzetta, oppure le ultime novità sulla disinfestazione Augusto Arsizio dopo la scoperta di un caso sospetto di virus dengue. Infine, due eventi clou della Domenica Varesina, la sfilata delle auto storiche in centro e l'apertura del Luna Park alla Schiranna. In chiusura allo sport, calcio serie D, questi i risultati della 32esima giornata. Pond Donaz Varese 2 a 2, Castellanzese Legnano 0 a 0, Varesina Crema 2 a 0, Casatese Arconatese 1 a 1. Su prealpina.it l'approfondimento delle partite. Mentre in serie C ieri c'è stata la brutta sconfitta della ProPatria, battuta in trasferta 3 a 1 dal Fiorenzuola. Il commento del centrocampista bianco-blu Luca Bertoni. Secondo me la partita l'avevamo fatta nascere male, perché eravamo entrati male in campo. Eravamo stati bravi a riprenderla, a rimetterla in sesto, a trovare anche il gol. Però poi al secondo tempo siamo entrati anche peggio del primo, quindi vuol dire che comunque dobbiamo lavorare sull'atteggiamento, su... ti ripeto, quando entri, soprattutto in questa credoveria, quando in una squadra manca la motivazione, la cattiveria, la determinazione, la voglia di vincere i duelli, i contrasti, poi si fa fatica. Per ora è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di prealpina.it